Sabato 12 marzo 2022 ragazzi, buongiorno, 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 ben ritrovati a tutti voi, io sono Manno e questa è Forza Lazio Web TV, ben ritrovati, ben ritrovati a tutti voi, rapidamente vi ricordo quello che ritengo in maniera tra virgolette istituzionale ricordare, quando siamo in diretta ragazzi vi ricordo che lo siamo anche sul nostro sito laziolive.tv questa è la prima cosa perché è la cosa più importante, chiaramente vi invito a leggere i nostri contributi che escono sul sito, questo è fondamentale, detto ciò per quanto riguarda il mondo di Forza Lazio Web TV sapete dove seguirci, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok sono questi i nostri social vi ricordo anche che in descrizione trovate il link che vi riporta l'abbonamento al nostro canale YouTube per darci un piccolo supporto così come vi ricordo che sempre in descrizione trovate il link per acquistare su Amazon tramite il nostro link di affiliazione trovate il nostro forza Lazio Web TV store in cui potete acquistare magliette, felpe e gadget di vario tipo marcate con la nostra aquila stilizzata che insomma della quale andiamo davvero molto molto fieri inoltre ragazzi mi raccomando la cosa bella di cui parlo sempre è quella di fare vita social, di fare comunità, di scambiare pareri, opinioni a me piace molto leggere i vostri commenti sotto i vari video, l'interscambio di idee, insomma è bella, è una cosa che io reputo centrale, centrale per quello che riguarda il progetto di Forza Lazio Web TV qualche tempo fa durante una diretta scrisse uno dei tantissimi ascoltatori silenziosi dicendo che appunto apprezzava molto di noi il fatto che leggessimo tutti i commenti che arrivavano nel corso della diretta vabbè ragazzi non avrebbe senso fare il contrario per come la vedo io, finché siamo nell'ordine dei commenti che te ne arrivano, noi ce ne arrivano circa due, trecento commenti a live sono gestibili, chiaramente te ne arrivano mille, duemila, devi fare una scrematura e questo però sarebbe tutt'altro, chiaramente tutt'altro discorso insomma entriamo un pochino nel dettaglio del video di oggi, argomento di oggi, è un sabato particolare ripeto, abbiamo già raccontato ieri che nella diretta di ieri sera che Radu è in forte dubbio io continuo a dire che per me Radu alla fine gioca, Radu è in forte dubbio però dobbiamo raccontare la cronaca, ecco mentre molti già danno Radu out sicuro al 100% per quanto mi riguarda invece è la giornata fondamentale, nemmeno è quella di oggi, è quella di domani se domani Radu non scende in campo per allenamento di rifinitura, allora devo convincermi e fare mea culpa e dire ho detto una stronzata, Radu non gioca detto ciò c'è anche la notizia buona di Lazzari che ieri si è riaggregato al gruppo, chiaramente lavorando senza pallone poi quando è entrato in ballo il pallone chiaramente Lazzari si è fatto da parte, comunque è un segno positivo diciamo la verità, per le difficoltà che ha la Lazio tra squalifiche e infortuni capita la partita giusta mi raccomando è importante che io non sia travisato quando dico queste cose se devo giocare però, nel senso non sto sottovalutando il Venezia, è un dato di fatto che la Lazio è nettamente di un'altra categoria rispetto al Venezia, è nettamente più forte, ora fate tutti gli scongiuri del caso, fate quello che vi pare io parlo per dati di fatto, quindi meglio è una fortuna che tutti questi disagi di formazione siano capitando adesso, per come la vedo io detto ciò, detto ciò però andiamo un pochino anche a vedere il Venezia che squadra è squadra è mischiata nella lotta a salvezza, è una squadra che vi ricordo deve ancora recuperare una partita contro la Salernitana che può in maniera importante segnare la stagione di questa squadra, c'è poco da fare e questo è già un dato di fatto detto questo cosa dire del Venezia? è la squadra che è tra i peggiori attacchi del campionato non c'è poco storia, tra i peggiori attacchi del campionato è tra, se non sbaglio è la peggior vado un po' a memoria ragazzi, è la peggior difesa del campionato quindi comunque sono tutti numeri che in qualche modo riconducono verso il valore reale che questa squadra ha, non me ne vogliano i tifosi del Venezia aspetto arbitrale, andiamo pure a dare un'occhiata all'aspetto arbitrale perché c'è qualcosa di particolare che mi lega all'arbitro di lunedì sera che sarà Manganiello e Manganiello l'ultima volta che ha allenato la Lazio risale a due anni fa e io la ricordo benissimo quella partita perché in qualche modo fu la partita che diede il via a quella rincorsa al sogno scudetto della Lazio a quei quattro mesi a livelli clamorosi in cui la Lazio dettava legge su tutti i campi a Brescia la partita a Brescia dove la Lazio vinse in rimonta all'ultimo respiro e in quella partita ad arbitrare era proprio Manganiello da quel momento Manganiello è sparito dai radar delle partite della Lazio ne farà ritorno domani scusatemi lunedì sera 20.45 tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che chiaramente Forza Lazio andrà in diretta ci sarà un breve ci sarà un pre partita diretta e quindi insomma è un po' spartita per parlare insieme di ciò che avremmo che avremmo visto manca secondo me il faro di questa squadra lunedì ed è un altro fattore che obiettivamente va a nostro favore e dobbiamo ragazzi tenerne conto parlo di Aramo il regista il giocatore tecnicamente meglio dotato di tutta la formazione di tutta la formazione del Venezia è il giocatore che ha tecnica che fa l'ultimo passaggio e quant'altro però Aramo ragazzi un pochino ha fatto sentire anche il suo peso in negativo perché Aramo vado uno due due sì vado a memoria Aramo ragazzi ha sbagliato due calci di rigore nel corso di questa stagione che pesano come macigni sulla classifica del Venezia insomma tutto questo perché questi vari input e queste cose qua per dire che ragazzi ripeto lo ripeto l'ho detto all'inizio di questo video massimo rispetto per il Venezia così come proprio la cultura sportiva deve insegnare a rispettare sempre il proprio avversario sempre però sono dati di fatto se vogliamo fare i scaramanti ci hanno conto altrimenti ragazzi miei dobbiamo metterci tra virgolette l'anima in pace e la Lazio deve vincere col Venezia se vuole continuare a rincorrere quello che è il suo obiettivo stagionale ma soprattutto la Lazio è più forte non c'è niente da fare stop la Lazio ha l'obbligo di vincere contro il Venezia sì andrai a giocare con una squadra disperata che ha bisogno di successo o di punti comunque per rimanere aggrappata al discorso salvezza è altrettanto vero però ripeto l'aspetto emotivo la farà da padrone in queste ultime dieci giornate facciamone passare al 3 3-4 e poi l'aspetto emotivo legato agli stimoli farà ancora di più la differenza però attenzione perché per esempio oggi ora non mi ricordo la partita scusatemi oggi c'è una Spezia Cagliari se non sbaglio c'è una partita cruciale per la lotta salvezza cruciale per la lotta salvezza che in qualche modo chiama in causa anche il Venezia e anche il risultato della partita di oggi potrebbe rappresentare una di quelle famose variabili di cui parlo sempre io nella testa della squadra del Venezia resta il fatto che la Lazio non deve fare sti calcoli la Lazio deve giocare la partita da Lazio e la Lazio se la deve portare a casa che bella quest'ultima frase che ho detto ho nominato tre volte la parola più bella del mondo Lazio ecco con questo ragazzi mi fermo qua volevo solamente darvi un contributo un mio modesto contributo in termini numerici statistici legati al Venezia abbiamo quindi detto che è tra i peggiori attacchi del campionato è tra le peggiori difese del campionato anzi secondo me è proprio la peggiore in assoluto vado tutto a memoria ragazzi io studio molti numeri della Serie A però adesso le stranette di prima mattina sto andando molto a memoria questo è quello che chiaramente abbiamo detto giocherà ecco ecco a parte Aramu o Kereke vabbè ormai abbiamo capito che è un giocatore molto interessante però c'è un altro giocatore che a me piace perché ha caratteristiche tutte sue giocatore di peso bravo di testa Henry Henry l'attaccante del Venezia tra l'altro ha segnato sei gol per il Venezia è colui che ha fatto più gol in tutta la squadra e attenzione attenzione dei sei gol segnati cinque li ha segnati di testa stiamo attenti a sta cosa stiamo attenti a questa cosa piccola indicazione alla nostra alla nostra difesa con questo ragazzi io mi fermo qua vi auguro di nuovo un buon sabato 12 marzo 2022 vi mando un caro abbraccio sicuramente nell'arco della giornata usciranno altri altri video perché chiaramente ricordiamoci che c'è da dare la formazione al fantacalcio questo mi pare abbastanza abbastanza chiaro quindi assolutamente sicuramente faremo un altro un altro video con questo ragazzi io mi fermo qua vi mando un abbraccio forte e come sempre chiudiamo noi forza Lazio a tutti ciao ciao